La riqualificazione del Parco di Santa Caterina era uno degli obiettivi, assessore, che lei si era prefisso all'inizio del suo mandato. Un parco particolare, in una zona particolare della città dove in passato ci sono stati anche problemi di ordine pubblico. Sicuramente questa è una grande soddisfazione oggi, vedere questo parco aperto a tutti. Quindi noi abbiamo avuto dei grossi problemi in questo parco perché non c'è stata mai integrazione. Da oggi le cose sono cambiate, vedo con grande piacere la partecipazione di tutti. Questo è un parco particolarissimo che è ubicato al centro di Pescara, quindi questo risultato che stiamo ottenendo oggi io vorrei che fosse di esempio per tanti altri parchi della città di Pescara. In alcuni già grandi problemi non li abbiamo, in alcuni altri sì, ma questo deve essere di esempio. Quella di oggi è una giornata importante perché viene esiglata questa collaborazione tra l'amministrazione comunale di Pescara e la Guardia Civile Ambientale. Insomma, voi vi occuperete di questo parco come avete fatto in passato anche con altri parchi? Sì, è vero. Noi ci siamo nel passato, ci siamo occupati degli altri parchi, specialmente della riserva d'Annunziana. Abbiamo fatto della vigilanza all'interno, all'epoca anti-covid, quindi distanziamento sociale. Ora stiamo collaborando proprio per ridare un po' di parchi alla cittadinanza. Il nostro compito è quello di guardia zoofile e in più facciamo anche il distanziamento per vietare gli assemblamenti. Questo verrà fatto grazie alla ditta Tomowalk. Fra poco verrà fatto anche in moto, con due moto elettriche, che ci consentirà di percorrere queste strade all'interno dei parchi, specialmente nel parco della riserva d'Annunziana, per preservare anche il parco. I mezzi sono totalmente elettrici, sono delle moto, noi facciamo tre tipologie. Abbiamo scelto la moto ideale per il lavoro che svolgono loro, per aiutare sul territorio, per essere più veloci nel servizio. In più la moto è una moto ecologica e soprattutto è la moto abruzzese, perché noi siamo una compagnia che è instaurata a Teramo e costruiamo la moto dentro i nostri stabilimenti su Viale Bovio. È andata questa collaborazione, abbiamo donato le moto, queste due moto, brandizzate, colorate per il loro servizio, con alcuni accessori che serviranno proprio per migliorare le tempistiche sul loro operato.